Con il numero 8 Carlo Piga, con il numero 9 Lucas Cognamillo, con il numero 10 Andrea Usai, con il numero 11 Giacomo Cananini a disposizione con la maglia numero 12 Salvatore Pitalis, con la maglia numero 13 Ivan Del Rio, con la maglia numero 14 Leonardo Filo Cordoni con la maglia numero 20 Roberto Galante in panchina, il mister Pava Per il Rusai quest'oggi, con la maglia bianca, rossa e verde, cari tiposi alziamo numero 3 Simone Contu con la maglia numero 4, il capitano Michele Pisano, con la maglia numero 5 Mattei Mathi Mattei Fauris Mattei París Ma Come la 9-11 Ha segnato Andrà Cegliani Andrà Cegliani Andrà Cegliani Andrà Cegliani Andrà Ceglanti Andrà Cegliani Ama Tiroci una foto, santo! Vita! E finisce qui questo match avvicente Complimenti all'altro annuncio del Mr. Paba in Bocca Lupo per Giuseppe forza la Lusai facciamo un grande applauso ai nostri ragazzi al Mr. Gianluca Andatin come il capossima nuova trasferta in buon di Trestino non si bella forza la Lusai grazie 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 grazie